Una mandria di mucca ha improvvisamente attraversato la 460 tra Salasse e Valperga questa sera, giovedì 28 novembre, poco dopo le 20. Una BMW 116 diesel con a bordo padre e figlio di San Colombano Belmonte, provenienti da Revarolo, Canavese, se le sono trovate improvvisamente davanti. Purtroppo non sono riusciti a evitare l'impatto con una di esse. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Bianca del Canavese, i vigili del fuoco di Revarolo e i carabinieri di Revarolo. Gli occupanti della vettura sono stati subito controllati sul posto dai soccorritori e per fortuna sono rimasti lesi. La vettura, uscita dal concessionario un mese fa, ha riportato ingenti danni. Subito dopo l'impatto le mucche sono ritornate verso la cascina da cui provenivano. Con ogni probabilità l'alta tensione del cavo che delimitava l'area in cui erano non ha svolto il suo compito. E gli animali sono usciti dirigendosi verso la strada.